ah qui c'è un passino per chi ama diciamo un estratto molto liquido io lo amo più più denso non userò guardate quanto sia facile fare il lavoro con l'attrezzatura giusta allora l'uva ha la buccia che può incollarsi al filtro quindi la mettiamo per prima e poi mettiamo il resto quindi vedete non occorre usare pressore non occorre usare niente la macchina fa tutto da sé di solito io uso tre carote ecco qui possiamo anche toglierlo come avete visto falce a strato è questione di quanto cinque minuti è molto veloce e lo si fa in maniera molto semplice signora vuole